Per le automobili abbandonate sul suolo pubblico parte da oggi un nuovo servizio che consentirà ai cittadini di informare il Comune per avviare la procedura di rimozione. L'iniziativa è stata presentata questa mattina sulle rampe di Pizzo Falcone dove alcuni comitati di residenti si sono attivati per sollecitare l'amministrazione su questo tema. Questo ci consente, questo servizio aggiuntivo che riusciamo ad offrire, di dare una risposta ai tanti comitati cittadini che ci avevano segnalato questo disagio che vivevano. 10 giorni di tempo per la rimozione di auto che non hanno segnali distintivi e 30 giorni per quelle auto che invece hanno dei segnali distintivi in cui noi siamo obbligati a contattare i proprietari. I cittadini potranno segnalare al Comune le vetture abbandonate in strada tramite l'indirizzo di posta elettronica polizialocale.rimozioneauto.napoli.it allegando una foto dell'auto con l'indirizzo e il numero civico della sua posizione, il colore e il modello ed eventualmente la targa. Oggi ringraziamo tutte le istituzioni che sono qui a lavorare insieme, l'assessorato con delega della Polizia Municipale e la Polizia Municipale, ma soprattutto i cittadini con i comitati civici che stanno facendo un ottimo lavoro integrandosi con le istituzioni, dando una mano quindi dal basso con le segnalazioni. Oggi è un intervento straordinario che diventerà ordinario con una continuità assicurata anche dai comitati civici che ci continueranno a segnalare queste tipologie di problematiche. In occasione della procedura pubblica per l'antifortunistica stradale abbiamo chiesto un servizio in più aggiuntivo che è a costo zero per il comune di Napoli, che ci consente in tempi certi di raccogliere tutte le segnalazioni e di rimuovere delle vetture. Questo è un lavoro fondamentale perché nei progetti di rigenerazione urbana, come anche di questo bellissimo pezzo di città, dobbiamo partire dalle cose piccole che sono quel segnale fondamentale da dare al cittadino, affinché non ci possa mai essere sfiducia o l'idea che le cose vengono abbandonate per sempre. Sono orgogliosa quindi di questo progetto e invito tutti a segnalare ciò che vedono nei luoghi della nostra amata città abbandonato da troppo tempo. Grazie. Grazie. Grazie.